Buongiorno a tutti, ci troviamo a Strasburgo, nel quartiere della Petite France. Originariamente era un quartiere di pescatori, oggi è stato adattato ed è uno dei quartieri più belli di Strasburgo. Facciamo un giro insieme. Un piccolo scorcio della camera, nella cattedrale, la piazza, ed ecco i tetti di Strasburgo. Un piccolo pontile nei pressi della chiusa. Ed ecco un altro bellissimo scorcio. E niente, i miei mi lasciano qua con le baguette, che non sono calde come voleva papà, e se ne vanno. E io vago per Strasburgo. Negozi tipici di Strasburgo. Ecco il canale, la chiusa, delle case caratteristiche lungo i canali. Un piccolo ponte. E advocacy più co parcei del gruppo. E qui nu vanno per piano. Ecco qui suprime iniziano il canale. E qui suprime iniziano il canale. Quindi un bel po' Drink, si non èOf entre uili. Suprime inizia iniziano il canale. E qui suprime iniziano un Carlo. E qui va bene. E qui suprime iniziano il big sigh de꼬tale. Grazie a tutti.